Allora, confesso che parlare dopo un Chief Innovation Evangelist facendo un lavoro come il mio che sostanzialmente esiste da qualche migliaio di anni e che sostanzialmente si occupa di gestire i processi di cambiamento che interessano il tessuto economico e il tessuto sociale sulla base di regole che fisiologicamente rincorrono quel cambiamento e non lo anticipano perché non ci riescono mai, non è proprio semplice. Però credo che sia importante fare una premessa sul mio personale approccio rispetto alle cose che ho sentito sinora. Io condivido assolutamente l'ottimismo che traspare dagli interventi che abbiamo sentito fino a questo momento. Il mondo verso il quale ci stiamo muovendo è senz'altro un mondo che probabilmente sarà nel complesso un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino a oggi. E questo interessa a tutti gli aspetti del vivere, dalla maggior disponibilità di tempo libero che in una società matura come la nostra sappiamo tutti essere una risorsa fondamentale per la qualità della vita, anche alla qualità del lavoro. però devo anche dirvi una cosa da professionista che ahimè si occupa di conflitto. Che credere che il cambiamento violentissimo che stiamo conoscendo in questi anni porti a questo upgrade nella qualità complessiva della vita e del lavoro in assenza di conflitto è secondo me profondamente sbagliato. E lo stiamo vedendo già. Anche perché c'è un tema assai rilevante da considerare le cose che abbiamo sentito sul fatto che complessivamente la qualità del lavoro migliorerà per quanto riguarda i lavori di qualità non può prescindere dalla considerazione del fatto che non siamo tutti uguali e non tutti ahimè saremo in grado di svolgere lavori di qualità. e se è vero che esistono ancora tecnologie che supporteranno la produzione ed esiste ancora la necessità di lavori tra virgolette bassi dal punto di vista dei contenuti professionali ed esisterà sempre se si fa un ragionamento a livello globale che è un ragionamento che naturalmente le grandi corporation giustamente fanno nella loro prospettiva ebbene questo non è vero a livello locale a livello locale inevitabilmente almeno nel breve termine io ritengo che si determinerà una situazione nella quale quello che noi giuristi chiamiamo conflitto industriale è destinato a conoscere una fase di incremento ed è una fase che andrà gestita perché poco importa se voglio dire in Pakistan piuttosto che in Indonesia aumenterà la richiesta di mano d'opera per quanto riguarda la costruzione di beni primari nel contesto di fabbriche ad altissima tecnologia la verità è che molto probabilmente in Italia piuttosto che in altri paesi che consideriamo tra virgolette avanzati ci sarà un surplus di mano d'opera da gestire e non tutta questa mano d'opera si può pensare che sarà dotata di skills adeguati per riconvertirla nei lavori ad alto valore aggiunto che sono quelli per i quali esiste sicuramente un futuro che beneficerà delle macchine quindi il conflitto c'è io ritengo che continuerà purtroppo ad esserci e ritengo anche che conoscerà una stagione di inasprimento nei prossimi anni e di questa stagione chi si occupa di HR e chi si occupa di relazioni sindacali e dovrà tener conto e dovrà essere capace di gestirlo non solo ma dovrà attrezzarsi per gestirlo e ove possibile prevenirlo sulla base di regole che sono nate e che sono state applicate fino a oggi in un mondo diversissimo da quello che già conosciamo in questo preciso momento as we speak come si dice guardate vi faccio soltanto un esempio poi andrò velocissimo perché ho tempi molto stretti per parlare di un argomento che in realtà necessiterebbe di approfondimenti ben diversi partiamo da un fatto di cronaca di cui tutti quanti avrete letto perché è stato pubblicato un po' su tutti i principali giornali nei giorni scorsi la vicenda del cosiddetto collettivo di riders denominato Deliverance l'avrete letto è quella formazione, quella organizzazione che al fine di portare alla ribalta della cronaca il problema legato al trattamento dei riders in realtà ha scelto uno strumento molto violento tra virgolette cioè ha pubblicato avvalendosi proprio della tecnologia ha messo in rete i nominativi di tutta una serie di clienti che pur essendo molto ricchi e molto famosi e vivendo in quartieri chic di Milano in realtà sono soliti non pagare la mancia ai rider che gli portavano la pizza anche nelle giornate di pioggia ok? il fatto in sé soprattutto se raccontato in questi termini fa abbastanza ridere in realtà secondo me c'è pochissimo da ridere se lo si guarda in maniera un po' più approfondita prima di tutto perché se guardiamo bene al contenuto del comunicato vediamo che questo comunicato costituisce a tutti gli effetti un modo nuovo e decisamente duro di fare conflitto perché non si sono limitati a pubblicare i nominativi di clienti che già questo è molto antipatico lo hanno fatto naturalmente mettendo questi clienti in una pessima luce il che chiaramente non può far piacere all'azienda che mandava i rider può aver creato tra l'altro all'azienda rilevanti problemi legali non lo sappiamo ancora ma potrebbe essere ma in più ha anche utilizzato nel comunicato delle parole che sono profondamente minacciose perché da una parte viene detto rivolgendosi ai clienti signori sappiate che noi conosciamo tutte le vostre abitudini sappiamo dove vivete e quindi sappiamo chi siete sappiamo dove vivete e conosciamo tutte le vostre abitudini che obbiettivamente non è bellissimo in più che cosa dicono questa volta rivolgendosi all'azienda guardate che noi sappiamo che voi azienda da nostri tra virgolette datori di lavoro dico tra virgolette perché tra l'altro non si tratta neppure di rapporti di lavoro subordinato come certamente sapete in senso tecnico sappiate che noi siamo perfettamente a conoscenza del fatto che il vostro vero business non è la commissione sulla pizza che consegniamo a Fedez il vostro vero business è un'altra cosa è la profilazione della clientela e il fatto che poi vi vendete ad aziende terze i dati relativi a questa profilazione della clientela e questo è ovviamente un elemento che certo non impatta positivamente sull'immagine dell'azienda di consegne perché parto da qui perché voi direte ma che cos'ha di sindacale questa roba no, di sindacale ha molto perché voi sapete perfettamente per il lavoro che fate che dal punto di vista giuridico è sindacale qualunque attività di autotutela di interessi di lavoro non di lavoro subordinato in senso tecnico di lavoro quindi se mi si chiede da avvocato se questa attività è una forma di attività sindacale protetta dall'articolo 39 della Costituzione devo dire sì è attività sindacale è attuata con strumenti leciti punto di domanda qui il discorso diventa molto più delicato perché in realtà certamente non sono gli strumenti conosciuti dall'ordinamento giuridico non è certo lo sciopero protetto dall'articolo 40 della Costituzione sono strumenti nuovi sono strumenti impropri probabilmente illeciti e qui viene l'altro aspetto ma chi attua questa forma di lotta sindacale? un'organizzazione sindacale? sì, dal punto di vista tecnico sì perché anche qui l'articolo 39 della Costituzione ci consente di dire per il modo in cui viene comunemente interpretato che è un'organizzazione sindacale qualunque forma di organizzazione anche temporanea anche non stabile che abbia come obiettivo quello dell'autotutela di interessi di lavoro quindi vale anche per i cosiddetti comitati di lotta i cosiddetti collettivi come si usavano negli anni 70 però rispetto a quei comitati di lotta qui non sappiamo neanche con chi stiamo parlando chi sono questi signori? come faccio a relazionarmi con loro? posso negoziare con loro? quali sono? qual è la loro piattaforma rivendicativa? boh non ne abbiamo la minima idea allora partiamo da questo episodio per fare qualche valutazione un pochino più tecnica molto rapida ora come impattano le nuove tecnologie sulle relazioni sindacali? posso dirvi che un impatto diretto probabilmente per ora non c'è un impatto mediato lo vedo in modo evidente e fortissimo perché innanzitutto cambia il lavoro sia nel senso dei contenuti dell'attività, delle modalità di svolgimento del lavoro sia dal punto di vista della cultura di chi lavora l'introduzione delle nuove tecnologie cambia il modo di lavorare prima di tutto perché assistiamo a una dematerializzazione dell'azienda è chiaro che una cosa è lavorare per un'impresa che ha uno stabilimento nel quale tutti ci dobbiamo arricchare a lavorare ogni giorno più o meno negli stessi orari d'ufficio un'altra cosa è lavorare per un'azienda che diventa soltanto una piattaforma digitale la dematerializzazione dell'impresa porta con sé delle conseguenze molto rilevanti sia sotto il profilo delle relazioni interpersonali tra i lavoratori perché queste sostanzialmente spariscono e vengono gestite addirittura molto spesso attraverso lo strumento tecnologico delle chat vedo sempre più di frequente che vengono utilizzate le chat per esempio per gestire i turni tra dipendenti che a momenti non si conoscono nemmeno fisicamente quindi non interagiscono tra di loro se non attraverso la tecnologia in più diventa estremamente sfilacciato anche il rapporto contrattuale è lo stesso paradigma tradizionale del lavoro subordinato che entra in crisi perché da lavoratore subordinato inteso come lavoratore etero diretto si passa al lavoratore etero organizzato quello disciplinato dal Jobs Act ma si passa addirittura a quello che io ho chiamato in modo magari un po' rozzo ma che rende l'idea a forme di lavoro pseudo autonomo che sono dal punto di vista tecnico considerate tali tra l'altro c'è stato anche qualche precedente giurisprudenziale importante che ha confermato l'autonomia dei riders quindi il rapporto contrattuale non è più quello conosciuto che ha le sue regole e c'è poi una maggior difficoltà a gestire una attività di proselitismo sindacale sul luogo di lavoro perché il luogo di lavoro essendo dematerializzato spesso non esiste nemmeno più ebbene quali sono le conseguenze di questa situazione c'è anche una domanda di lavoro altamente specializzato che era totalmente sconosciuta rispetto al mondo del lavoro al mercato del lavoro come lo conoscevamo prima questa domanda di lavoro in realtà è una domanda di lavoro che ribalta il paradigma tradizionale del rapporto tra domanda e offerta sul mercato del lavoro nel senso che non è più l'azienda che sceglie il dipendente ma è il dipendente che sceglie l'azienda addirittura tante volte il dipendente non sceglie solo l'azienda sceglie anche il paese nel quale svolgere la prestazione comparando il livello delle infrastrutture la disciplina fiscale eccetera eccetera sono situazioni che erano impensabili solo fino a qualche anno fa e poi c'è un concetto di discontinuità delle carriere che è entrato ormai a far parte della cultura dei dipendenti più giovani dei lavoratori più giovani dipendenti ormai è difficile da dire cioè si considera normale che nel percorso professionale di una persona ci siano n cambiamenti di lavoro e questo ha delle conseguenze dal punto di vista culturale molto rilevanti perché non è più così sentito il tema della protezione del posto di lavoro a vita non frega a nessuno tra i giovani e quindi lo sforzo che continuano a fare le nostre vecchie organizzazioni sindacali in quella direzione è battersi per proteggere un totem che per lo più interessa a persone che oggi sono in pensione ora proviamo a passare molto velocemente proprio alle conseguenze sul tema del rapporto con le organizzazioni sindacali vi do soltanto qualche numero complessivamente c'è un indebolimento molto evidente delle organizzazioni sindacali confederali basti pensare guardate il numero alle mie spalle gli iscritti alle organizzazioni sindacali confederali erano quasi 15 milioni nel 2010 oggi sono meno di 12 milioni dati del febbraio del 2019 non solo ma se guardiamo alla loro ripartizione interna il dato più sconvolgente è che quasi il 50 per cento degli attuali 12 milioni di iscritti sono pensionati se poi avessimo dei dati ancora un pochino più precisi sui giovani e sui neo occupati scopriremo che il tasso di affiliazione sindacale è prossimo allo zero quindi è evidente che c'è un indebolimento ne consegue naturalmente una perdita progressiva un indebolimento del ruolo sindacale nella partecipazione attiva alle politiche economiche del paese molti di voi ricorderanno che una volta non si faceva una manovra economica se non ci si era prima confrontati con le cosiddette parti sociali oggi questo tipo di confronto quando c'è è più estetico che di contenuti e ancora c'è una polverizzazione del conflitto che rischia di trasformarsi in una vera e propria anarchia che è esattamente quello che dicevo prima del collettivo Deliverance chi fa HR oggi e si occupa di relazioni sindacali il primo enorme problema che ha arrivo, sì, ok, chiudo il primo enorme problema che ha è quello di individuare gli interlocutori che siano rappresentativi effettivamente del personale è difficilissimo chi vi parla ha negoziato per oltre quattro mesi un contratto collettivo aziendale nel settore della sanità privata per poi scoprire che in assemblea dopo essere arrivati faticosamente alla firma in assemblea i sindacati sono andati nettamente sotto e il contratto è stato a carta straccia tutto lavoro perso ora passo subito alla conclusione poi potrete vedere qualche considerazione in più nelle slide che tanto sono a vostra disposizione le regole tradizionali o meglio le non regole perché ricordiamoci che il nostro attuale conflitto industriale è gestito fondamentalmente dalla mancata attuazione dell'articolo 39 della costituzione commi successivi al primo voluto da organizzazioni sindacali forti che effettivamente si sono dimostrate perfettamente in grado di gestire il conflitto industriale fino all'altro ieri oggi questo scenario è in crisi quindi probabilmente bisogna pensare da un lato a un upgrade del sindacato nella logica di trasformarsi prima di tutto in una piattaforma efficiente di servizi a supporto della ricollocazione e a supporto della formazione dall'altra parte bisogna pensare e questo probabilmente è più compito di noi giuristi ha un nuovo assetto normativo che consenta di avere regole chiare da un lato per l'individuazione degli interlocutori sindacali rappresentativi e dall'altro lato sulla diciamo sulla regolamentazione degli effetti degli accordi sindacali che vengono di volta in volta stipulati purtroppo devo fermarmi qua perché cosa da dire ce ne sarebbero tante ma non c'è tempo grazie per l'attenzione grazie 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 grazie